Buongiorno a tutti e benvenuti da 4WD Italia. Abbiamo qui un TJ un po' vissutello, un TJ4000, che ci è stato portato come lo vedete. Io ho guardato questa preparazione e è una preparazione fatta un po' senza senso. Mi spiego. Questi sono pneumatici da 35 che per un TJ sono importanti da far girare. Servirebbero delle cose che in questa vettura non ci sono. È stato fatto un assetto in qualche maniera senza senso, senza i puntoni regolabili, con i ponti che sono completamente disassati tra di loro. Le migliorie che si possono apportare e che apporteremo a questa vettura prevalentemente riguardano l'assetto. Poi ci è stata presentata con un ponte Dana 44 davanti, che è una bellissima cosa, peccato che è montato in maniera tale che le geometrie non sono quelle corrette e soprattutto dietro è stato lasciato il ponte originale, che è il Dana 35, che purtroppo con dei pneumatici da 35 soffre moltissimo il rischio che si spacchi un semiasse ed esca semiasse e ruota, che purtroppo è un ponte molto delicato. Quindi andremmo a sostituire anche il ponte posteriore, rendendolo degno di un TJ che monta alle 35. Ovviamente coppie coniche più corte, perché in questo caso i rapporti si allungano tantissimo e poi andremo a fare una serie di interventi che sono quelli che facciamo normalmente quando ci viene presentata una GIP abbastanza adattata come questa e sulla quale la manutenzione è stata fatta un po' così, intanto al chilo come si suol dire. Quindi andremo a rifare quella che è la distribuzione, perché inizia ad avere un po' di chilometri, faremo un tagliando approfondito e altri problemi che adesso ci sono di ciclistica verranno completamente risolti, annullati, perché andremo a montare un assetto da 4 pollici molto tecnico con 8 puntoni regolabili, di due panel regolabili. È un assetto rock country, che abbiamo già utilizzato su altri TJ e c'è l'atto di soddisfazione. Un'altra modifica che andremo a farle riguarda l'albero di trasmissione che adesso non vedete, comunque parte dalla piastra del cambio che è in basso, che in questo caso per dare un minimo di geometria corretta al lavoro dell'albero è stata abbassata, ma è un controsenso nel senso che alzare la GIP e abbassare la piastra del cambio toglie come angolo di dosso, è assolutamente penalizzante, a parte che esteticamente è orribile. Quindi andremo a intervenire modificando l'albero, mettendo un albero a doppia crociera che può lavorare con degli angoli diversi e anche questa è una modifica che magari non si vede, ma è una modifica tecnicamente molto importante. Se hai una GIP come questa vuoi prepararla o l'hai acquistata e non sei soddisfatto della preparazione che è già stata installata, io sono a tua disposizione per rimetterla in sesto e creare una preparazione tecnicamente corretta. Il sistema più semplice per contattarmi è quello di WhatsApp, il mio numero di WhatsApp è 338-73-12725. Alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!